cari fringuelli quello che abbiamo appena visto fortunatamente non ha provocato nessun tipo di incidente però è incommentabile se nei video precedenti sempre riguardanti il rapporto tra ciclisti automobilisti i ciclisti in qualche modo hanno commesso degli errori magari non viaggiavano in fila indiana o magari occupavano una parte della carreggiata troppo centrale in questo caso i ciclisti sono completamente esclusi da qualsiasi tipo di responsabilità viaggiano perfettamente in fila indiana sul limite destro della loro corsia hanno dispositivi di segnalazione all'anteriore e al posteriore e fortunatamente hanno a disposizione anche una dashcam sia frontalmente che posteriormente ora quello che ha fatto l'automobilista in questo caso americano in texas è ignobile perché quei ciclisti non stavano dando fastidio a nessuno e fargli respirare con una sgassata i tubi di scarico è veramente un comportamento folle tant'è che in questo video si vede esattamente la ecologicità della bicicletta un mezzo pulito che non inquina e che occupa anche poco spazio contro un super pick up che è enorme e inquina quindi al di là di questo ma perché gli automobilisti ci odiano ci odiano perché quando sono in auto si sentono frustrati cioè loro sono in auto che devono andare da un punto a un punto b in tutta fretta magari perché hanno mille cose da fare e non sopportano di vedere un ciclista che si sta beatamente allenando e si sta godendo la sua uscita in bicicletta inoltre ora non è il caso di questo video ma quando gli automobilisti sono in mezzo al traffico e si vedono sorpassare da un ciclista si sentono ancora di più frustrati perché vedono che loro sono fermi incolonnati in coda a un semaforo a uno stop mentre il ciclista beatamente gli passa accanto sfilandoli insomma sono veramente frustrati gli automobilisti questi video ne danno pienamente atto e a noi non ci resta altro che pedalare rispettando il codice della strada rispettando ovviamente gli automobilisti rispettando tutti coloro che viaggiano sulla strada e sperando che questi comportamenti folli non si ripetano e che ovviamente non abbiano conseguenze su noi ciclisti come sempre rispettiamo il codice della strada pedaliamo in sicurezza e si spera che prima o poi qualcuno capisca che è meglio prendere una bicicletta piuttosto che un'auto ok fringuelli fatemi sapere che cosa ne pensate noi come sempre ci vediamo al prossimo video buonanamente alla prossima ciao